buongiorno a tutti sono claudio cassardo docente del dipartimento di fisica dell'università di torino insegno e faccio ricerche sulla fisica del clima dell'atmosfera sulla meteorologia e mi occupo anche di cambiamenti climatici argomento in cui faccio anche molta divulgazione oggi vi vorrei parlare della relazione tra quello che avviene nelle zone fredde del nostro pianeta e il cambiamento climatico ovviamente si sa benissimo che una delle conseguenze del riscaldamento che ormai in atto dalla fine del 1800 è di creare la fusione dei ghiacci ghiacci che ricoprono una parte del nostro pianeta soprattutto in antartide in groenlandia e su tutte le montagne del mondo e vediamo quindi che cosa comporta questa fusione dei ghiacci in groenlandia dove è atteso nel prossimo secolo un aumento di temperatura compreso tra 39 gradi a seconda della tipologia di scenario ad alte o basse emissioni di gas serra se fondesse tutto il ghiaccio il mare si alzerebbe di circa 7 metri questo ovviamente non ci deve preoccupare in tempi brevi perché servirebbero secoli per far fondere tutto il ghiaccio della groenlandia tuttavia ci sono dei dati che ci fanno preoccupare nel senso che in alcune estati per esempio nel luglio 2012 ma anche più recentemente nel nell'anno scorso nel 2016 per alcuni giorni quasi tutta la superficie ghiacciata della groenlandia mostrava segni di fusione glaciale il ghiaccio fonde naturalmente crea dei fiumi sopra il ghiacciaio che poi possono scorrere fino agli oceani oppure inabissarsi sotto il ghiaccio finire all'interfaccia tra ghiacciaio e terre e comunque finire in mare attualmente la groenlandia perde un sacco di ghiaccio e globalmente questo è stimato sullo 0.01 per cento all'anno è un quantitativo abbastanza piccolo in un secolo farebbe appena l'uno per cento della massa glaciale della groenlandia ma naturalmente se il riscaldamento della superficie terrestre aumenterà e sappiamo che nelle zone artiche sono attese gli aumenti più significativi ovviamente anche la fusione dei ghiacci aumenterebbe l'altra regione che contiene quasi l'89 per cento del ghiaccio del pianeta terra e l'antartide l'antartide mostra una situazione un po più disomogenea e variabile anche lì se fondesse tutto il ghiaccio il livello del mare si alzerebbe di circa 90 metri sarebbe una catastrofe ma ovviamente anche in questo caso non c'è da preoccuparsi su tempi brevi perché servirebbero centinaia di anni forse un millennio se sia se le temperature aumentassero sufficientemente da innescare la fusione prima che fonda tutto il ghiaccio l'antartide ha una calotta glaciale che può essere ripartita in due semi calotte quella orientale appare più stabile perché il bilancio di ghiaccio è nullo o meglio stazionario localmente ci sono dei segnali di aumento in piccole aree ci sono delle diminuzioni questo perché con l'aumento delle temperature le nevicate sono più abbondanti e quindi compensano la maggiore fusione la calotta occidentale invece è meno stabile ci sono stati già parecchi di stacchi di iceberg e c'è una perdita di massa quasi diffusa sull'intera calotta soprattutto nell'ultimo decennio c'è da tenere presente che la calotta glaciale in antartide si formò in maniera definitiva una quindicina di milioni di anni fa ma la prima volta intorno ai 30 35 milioni di anni fa e all'epoca la concentrazione dei gas era diciamo la co2 equivalente era di circa 600 ppm parti per milione cioè su 600 parti per milione significa che su un milione di molecole di aria 600 sono molecole di co2 di anidride carbonica attualmente abbiamo superato stabilmente le 410 parti per milione abbiamo un ratio di crescita annua che negli ultimi anni sta sfiorando le 3 ppm all'anno e quindi ovviamente la soglia di 600 ppm non è così lontana poi c'è da considerare se vogliamo tenere presente il ghiaccio nella superficie terrestre anche il ghiaccio marino artico cioè quello che praticamente si estende dai 65 gradi di latitudine nord fino al polo nord e anche qui si sta assistendo una rapida fusione di questo ghiaccio negli anni 80 il 25 per cento di questo ghiaccio era vecchio fino a quattro anni adesso soltanto il 7 per cento la maggior parte del ghiaccio si forma d'inverno e fonde d'estate e secondo l'ultimo assessment report del pannello intergovernativo dei cambiamenti climatici l'ipcc probabilmente già dal 2050 d'estate non ci sarà più copertura di ghiaccio sull'oceano glaciale artico anche sulla terraferma abbiamo presenza di ghiaccio questo può essere in superficie cioè i ghiacciai e i nevai oppure anche sottoterra parliamo del permafrost che è una parola inglese che viene da permanente frost cioè suolo ghiacciato permanentemente e questo permafrost è presente tipicamente su tutte le regioni della più settentrionali dell'europa in siberia in america settentrionale soprattutto canada alaska il suolo è perennemente ghiacciato in queste zone la superficie eventualmente può fondere nelle stagioni più calde temporaneamente ma nel sottosuolo c'è presenza permanente di ghiaccio ebbene anche questo ghiaccio sta fondendo quindi il permafrost si sta ritirando sempre più verso nord questo ovviamente provoca problemi di stabilità perché molte delle infrastrutture in quelle aree sono state costruite direttamente sul permafrost in quanto essendo gelato garantiva buona stabilità e adesso quando il permafrost si ritira il terreno diventa assolutamente instabile e poi siccome il permafrost è presente anche su tutte le zone alpine comunque in generale sulle montagne più alte dove la temperatura nella roccia rimane sotto zero anche qui assistiamo al riscaldamento nelle nostre alpi c'è stato un rato di riscaldamento addirittura superiore alla media globale superiore alla media italiana quindi il permafrost si ritira anche qui e rende instabile il suolo di queste zone che prevalentemente composto di ciottoli di roccia disaggregate quindi causa grandi fenomeni di erosione che poi diventano frane e vengono trasportati dai fiumi quando ci sono precipitazioni di tipo alluvionale che li fanno ingrossare e qui possiamo anche considerare che la fusione del permafrost potrebbe esacerbare il riscaldamento globale soprattutto questo nelle regioni settentrionali polari perché potrebbe favorire il rilascio di metano e altri idrocarburi che ora sono trattenuti sotto terra e che se il permafrost si ritira potrebbero essere emessi in atmosfera teniamo presente che se il riscaldamento continuerà negli anni prossimi come ci dicono tutti i modelli questo potrebbe causare un'accelerazione di questi rilasci di gas serra che potrebbe essere non lineare come tutti i fenomeni climatici quindi ci potrebbe essere un aumento notevole delle emissioni di ci sono anche altri problemi che potrebbero derivare dal riscaldamento del suolo perché dobbiamo tenere presente che soprattutto sui fondali oceanici ma anche in parte sulla terraferma nel sottosuolo esistono i clatrati di metano che sono delle strutture chimiche complesse in cui le molecole di metano si adattano alle varie strutture di una sorta di gabbia formata dalle molecole di acqua siccome queste sostanze hanno una densità inferiore a quella dell'acqua quando vengono liberate salgono in superficie poi il metano può uscire tranquillamente in atmosfera quindi c'è il rilascio di metano che è un potente gas serra i depositi per quanto riguarda le parti continentali sono stati localizzati per ora in siberia in alaska in in zone di pietra renare o pietra a base di limo abbastanza vicine alla superficie cioè nel primo sottosuolo della crosta continentale in oceano sono diffusi nella piattaforma continentale o anche nei sedimenti sono vicini all'interfaccia sedimento acqua raramente sono in profondità e a volte questi clatrati di metano possono costituire una sorta di coperchio su delle presenze gassose di metano appunto allo stato gassoso e se questi si liberano potrebbero far uscire anche questo metano allo stato gassoso non si sa esattamente quale sia la quantità complessiva di questi clatrati di metano così come non si sa la quantità di gas serra che potrebbero essere liberati dal permafrost c'è molto dibattito su questi numeri tuttavia la preoccupazione è che se se ne dovesse liberare una quantità molto alta si potrebbe assistere a una forte accelerazione nel riscaldamento globale alcuni scienziati sostengono che questo sia già avvenuto alcune volte in passato causando delle grandi estinzioni di massa per esempio questo potrebbe essere stato il motivo dell'estinzione di massa nel periodo tra il permiano e il triassico e anche potrebbe spiegare il massimo termico tra il paleocene e leocene infine parliamo anche di virus e di pochi giorni fa la pubblicazione di un articolo di scienziati americani e cinesi che avevano raccolto cinque anni fa una carota di ghiaccio alcune carote di ghiaccio in tibet e le hanno analizzate lo spessore della carota di ghiaccio ha consentito di risalire indietro nel tempo di 15 mila anni quindi praticamente di ripercorrere la storia della civiltà umana di homo sapiens sapiens con una grande risoluzione temporale visto lo spessore di neve sono state fatte le consuete analisi che si fanno nel ghiaccio quindi sono state analizzate gli isotopi di ossigeno idrogeno gli altri composti la presenza di gas e aerosol tra cui co2 metano che sono rimasti intrappolati in questo ghiaccio e tra le altre sostanze sono anche stati trovati 28 nuovi gruppi di virus presenti in queste carote di ghiaccio fino adesso del tutto sconosciuti quindi sorge spontanea la preoccupazione che come sono stati trovati lì ci possono essere in tutti i depositi di ghiaccio di tutto il mondo e adesso che il ghiaccio inizia a fondere i cambiamenti climatici attuali futuri che stanno già facendo fondere il ghiaccio adesso in montagna e nelle zone polari potrebbero contribuire alla liberazione in atmosfera di antichi virus e non è da escludere che alcuni di questi virus potrebbero essere pericolosi anche per gli esseri umani o gli esseri viventi animali e piante di oggi con cui probabilmente potrebbero non essere mai venuti a contatto in precedenza non mi spingo oltre sul parlare di virus perché non sono un medico non ho competenze in materia quindi non vorrei dire delle cose inesatte ma comunque non posso non condividere questa preoccupazione di fondo per un per qualche evento sconosciuto che potrebbe avere ripercussioni sulla qualità della nostra vita di sicuro comunque questa è una preoccupazione che si aggiunge a quelle che ho detto prima sulla possibile liberazione da gas sera dal permafrost o dovuta all'instabilizzazione dei clatrati di metano che potrebbe dare un'accelerazione al cambiamento climatico e quindi al ratio di riscaldamento che già tutti i modelli prevedono per questo secolo l'ultima considerazione che voglio fare i ghiacci stanno fondendo un po in tutto il mondo e al di là del problema dei virus o del problema dei gas sera c'è anche un problema scientifico magari è meno preoccupante però se fondono i ghiacci possono innanzitutto sparire questi ghiacci e quindi noi perdiamo degli archivi storici che sono ricchi di informazioni quindi perdiamo le testimonianze importanti della storia passata della terra oppure l'acqua di fusione di questo ghiaccio può penetrare nel ghiaccio più profondo e così lo contamina perché poi non si può più associare a un determinato periodo storico le informazioni vengono mischiate e quindi quel ghiaccio non risulta più analizzabile anche questo contribuisce a far perdere una testimonianza della storia passata della terra e purtroppo è un peccato ho condiviso con voi queste preoccupazioni naturalmente il pensiero di fondo dietro tutto questo è che siamo ancora in tempo per agire su una leva importante per contrastare il cambiamento climatico che è quello della mitigazione sappiamo che il cambiamento del clima è dovuto alla forte immissione in atmosfera dei gas sera iniziata con la rivoluzione industriale e che sta continuando anche adesso anzi sta ancora accelerando noi per il momento stiamo seguendo la curva delle emissioni dello scenario più pessimistico quello chiamato business as usual o bau nella sigla e quindi procedere verso la mitigazione vuol dire invertire questa crescita continua a rate o quasi esponenziale delle emissioni cercando di raggiungere il più presto possibile il picco delle emissioni e poi cercando di diminuirle il prima possibile come del resto quasi tutte le nazioni del mondo hanno promesso di fare nel 2015 alla conference of party la cop di parigi dove c'è stato appunto il documento firmato da tutte le nazioni riguardo alla volontà di provare a ridurre le emissioni di gas sera del 40 per cento entro il 2050 nella speranza di allontanarci il prima possibile da questo scenario pessimistico e cercare di far stabilizzare le concentrazioni dei gas sera a livelli tali che ci possano permettere di evitare questi rischi anche i rischi di cui ho parlato oggi per il momento vi saluto e rimando a un mio prossimo intervento a risentirci a tutti e grazie